Allora, la prima è... Procediamo al voto. Tanto entusiasmo per parti separate, non l'avevo mai visto. Passiamo al voto della mozione 304, Bernini ed altri, testo 2, col parere contrario del governo. È aperta la votazione. Tutti hanno votato? Chiaro, chiusa la votazione. Il Senato non approva. Passiamo alla 306, testo 2, su cui il governo ha espresso parere favorevole. È aperta la votazione. Tutti hanno votato, dichiaro, chiusa la votazione. Il Senato approva. Si è così conclusa la discussione di emozioni. Addirittura i fischi no, eh. Si è chiusa la discussione sulle emozioni e pertanto la seduta viene sospesa per consentire l'igienizzazione e il cambiamento dell'aria fino alle ore 15. Senatore Erola, perché cosa? Lei aveva concluso il suo tempo? Ha detto che ci sarebbe assoluto, prego.